E' l'immagine di questa destra, di questa destra che si è involuta nel tempo, che è invecchiata male, ballando al Twiga, al Billionaire, allo Smilas, al Papete soprattutto, che negli anni hanno voluto trasformare come simboli di un paese che esiste solo nelle loro teste, nelle loro tasche, nella loro ristretta cerchia di amicizia che non ha niente a che fare con il mondo reale e nemmeno con la situazione attuale. Se c'è qualcosa di più stupido di quelli che temono di avere un microchip iniettato con il prossimo vaccino per il Covid sotto pelle, allora è sicuramente questa nuova discocrazia che viene proposta. Tra l'altro viene proposta mica da giovani che reclamano il proprio diritto, la libertà di ballare, no, ma da tempati signorotti della politica, che di politica hanno sempre vissuto e continuano a vivere e che vorrebbero risultare giovanili e invece sono patetici. Daniela Santanchè, che balla per fare opposizione, è una scena da fin dell'orrore che tra qualche anno riguarderemo con disgusto. È la destra che negli anni si è sempre rivenduta come il partito del rispetto delle regole, dicevano loro, e invece ora vorrebbe crescere nei sondaggi invitando a non rispettarle. badate bene, non propone una nuova regolamentazione, non propone una soluzione strutturale a un problema strutturale, perché il virus chiede e richiede un nuovo paradigma, non una serie di interventi tardivi e isolati. No, la destra italiana chiede ad alta voce in questo momento il diritto di ballare, dimostrando tutta la sua distanza dalla realtà. Agli elettori della discocrazia poi non interessa nemmeno troppo, in fondo, ballare. Vivono questa grande battaglia di grande resistenza, di grande culturale, perché qualcuno gli dice che si comincia così, vietando i balli, poi mettendo le mascherine e poi togliendo tutti i diritti civili. I leader della discocrazia hanno pensato bene che essere liberi significhi in questo momento praticare la propria libertà di ammassarsi in nome della loro grande rivoluzione. Siamo passati dalla mignotocrazia di Berlusconi alla discocrazia di Meloni e Salvini e Santanchè. Il passo è stato breve, ma se ci pensate bene c'è un filo rosso. A un mese dall'apertura della scuola, con il discorso del mess sul tavolo, mentre c'è da discutere di come utilizzare i fondi europei che arriveranno e di come ripensare il paese. Ecco, qui si continua a discutere, ma da giorni, mica uno, da giorni si continua a discutere di discoteche. Nell'anno di una pandemia mondiale si discute di discoteche. Io dico, ma vi sembra normale? Dai, buon mercoledì.